No, non si è bene. Non si è bene. Non si è bene, non si è bene. Noi non si è bene. Non c'è problema. Non si è bene. Alla cosa c'è il castagno. Vieni, per le arabe. il mondo non lo capo per me manda a rindicolato venga a incanere a vendersi carterle, aina parana come se ha fatto cavantare giunie, ma in cano cuore venga a incanere a vendersi carterle venga a vendersi carterle vengono e mappa a rito vengono e i talve cascani mandela No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.